Buonasera e ben ritrovati ad occhio alla notizia. La diga del furlo non verrà svuotata. Respinta dunque l'istanza della famiglia che intendeva così favorire le ricerche in profondità di Riccardo Branchini, il 19enne è scomparso la notte del 12 ottobre scorso. La decisione è stata presa oggi durante un vertice in prefettura a Pesaro. I particolari da Marco Lonigro in collegamento con noi. È trascorso quasi un mese dal giorno in cui è scomparso Riccardo Branchini. La sera del 12 ottobre dopo aver parcheggiato l'auto con all'interno documenti, cellulare e vestiti alla diga del furlo, il 19enne è sparito nel nulla. Proprio in quella zona si sono concentrate le ricerche. Nei giorni scorsi la famiglia di Riccardo ha avanzato una richiesta al prefetto. svuotare l'invaso per favorire le operazioni di ricerca in una zona piena di insidie. Oggi al termine di una riunione in prefettura alla quale hanno partecipato tutte le istituzioni, come i sindaci, le forze dell'ordine e l'Enel, l'ente gestore della centrale del furlo, è arrivata una risposta però negativa. La diga infatti non verrà svuotata. A spiegare le motivazioni il prefetto di Pesaro Urbino, la dottoressa Emanuela Saveria Greco, Svuotare la diga completamente innanzitutto non è possibile perché nella diga continua ad arrivare l'acqua del fiume Cantigliano, quindi non si deve immaginare uno svuotamento come un campo di calcio dove poi si può cercare qualcosa, ma è un luogo dove l'acqua continua ad arrivare. La diga poi è composta da diverse zone che presentano dei coni molto profondi dove c'è materiale melmoso che anche qualora fosse prosciugata oltre la quantità che è stata già prosciugata grazie ad Enel durante i primi momenti della ricerca, ma su questo il comandante dei Vigili del Fuoco può essere più preciso. Quindi se fosse ulteriormente prosciugata peraltro di poco rispetto al momento precedente, non consentirebbe comunque, proprio per come è costituita la diga, in quanto non è in piano, non consentirebbe la ricerca dell'eventuale del corpo di Riccardo. Quindi lo svuotamento della diga porterebbe a un'esposizione di tutti gli operatori che ha un alto rischio, ha l'impossibilità di raggiungere dei punti dove il corpo del ragazzo potrebbe essersi fermato, oltre che ha un danno ambientale rilevantissimo in termini di moria di pesce e di quant'altro. Ma soprattutto potrebbe non essere utile proprio al nostro fine. Il prefetto oggi ha sottolineato che nella diga non è stato ritrovato nessun oggetto di appartenenza a Riccardo Branchini. Attualmente è comunque attivo il piano per la ricerca delle persone scomparse e in procura è stato aperto anche un fascicolo. Le ricerche sono terminate alla diga del Furlo, dove si è fatto il possibile. Lo ha spiegato anche il comandante dei Vigili del Fuoco, ma proseguono le indagini in diverso modo. Sentiamo allora le parole di Lodovico Camilletti, la comandante dei Vigili del Fuoco di Pesagorbino. Tutto quello che noi potevamo fare fino a questo momento l'abbiamo messo in atto con tutti i nostri uomini e con tutti i nostri mezzi a disposizione. Quindi le ricerche sono state estremamente dettagliate e attualmente diciamo che non avremo altre possibilità di mettere in alto altre soluzioni di ricerca. Abbiamo ispezionato sia da parte a monte che alla parte a valle della diga e quindi diciamo che con tutte le nostre forze e tutto il nostro impegno. L'osortamento della diga avrebbe potuto dare un epilogo a questa vicenda. La richiesta è stata però appunto rispinta e da parte della famiglia di Riccardo c'è grande dispiacere. A raccontarlo questa mattina l'avvocato dei genitori di Riccardo, Elena Fabri. Sentiamo l'intervista e poi linea a Fano. Sicuramente la famiglia è dispiaciuta perché è una famiglia che comunque sta cercando delle risposte. Vivere senza sapere dove proprio figlio si trovi è qualcosa che veramente non si augura. È un ergasso, lo possiamo dire. Tuttavia ci tengo a precisare che ovviamente questo non significa che le ricerche sono sospese perché noi stessi insieme con la famiglia anche stiamo incaricando delle persone proprio per continuare a cercare Riccardo. Anche delle guide naturalistiche si sono messe a disposizione per la zona e ovviamente proseguono quelle che sono le indagini sul piano investigativo. Nulla esclude ovviamente che Riccardo possa essersi volontariamente allontanato e trovarsi altrove. Certo è che ovviamente la famiglia ci contava nell'avere una risposta ma sembra che per motivi tecnici questa risposta non sia possibile al momento.